Tramvia di Firenze. Per avviare la nuova linea T1 fino a Careggi servono 10 giorni di esercizio a vuoto senza passeggeri. L'ha deciso la Commissione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che deve sbloccare l'avvio della nuova tratta tramviaria. Solo dopo questi 10 giorni le porte di Sirio si apriranno a tutti. Manca poco quindi all'accensione dell'intera linea 1 della tramvia che si chiamerà T1 Leonardo Villa Costanza a Careggi. La Commissione ha verificato nei giorni scorsi l'infrastruttura e la documentazione tecnica. Ha dato il via libera fissando tempi e modalità per la partenza. In questo periodo di 10 giorni in pratica il tram sarà ad esercizio completo. Da Villa Costanza ad Alamanni con i passeggeri. Da Alamanni a Careggi senza passeggeri. In modo da simulare completamente il futuro servizio, compreso di attese, stop alle fermate, semafori, velocità e curve e a sperimentare il traffico e la mobilità nell'intera giornata.